Strade ancora insanguinate in questa torrida estate 2019. Oggi a perdere la vita lungo la Monte Labattese per uno schianto tra due autoveicoli, un 84enne di Pesaro, mentre un secondo automobilista, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Salvatore. Le fasi dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale di Pesaro, ma dalle prime evidenze è emerso che la 1 grigia condotta dall'anziano alle 10.30 di questa mattina stava percorrendo su via Lago Trasimeno proveniente dalla frazione di Villa Ceccolini e arrivata all'incrocio con la provinciale 30, per ragioni ancora da stabilire, ha intersecato la traiettoria di un Audi A4 proveniente da Pesaro, condotta da un albanese di 24 anni residente ad Urbania. L'urto è stato violentissimo tanto che l'anziano è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, rimanendo ucciso sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di reanimarlo da parte dei sanitari del 118 che sono arrivati sul luogo dell'incidente. Il 24enne invece è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Pesaro, anche se non sembrerebbe al momento in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per la viabilità e la polizia locale per i rilievi di legge. Al momento i veicoli sono stati sottoposti a sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria.